ciao a tutti sono Ivan da Padova e sono qui per recensire il mio prodotto acquistato nel negozio online di MB store niente è arrivato tutto perfettamente imballato tempi di consegna rispettati al massimo prezzi molto competitivi anzi direi forse i migliori nel mercato e niente sono super soddisfatto e lo consiglio assolutamente